La città di Salerno ha raggiunto l'83% della popolazione vaccinabile, mentre l'intera provincia di Salerno oltre l'80%. Manca poco per meglio completare la campagna vaccinale a copertura del ciclo, per meglio raggiungere una prima immunità di comunità. Complessivamente le persone vaccinabili hanno ricevuto anche la seconda dose, parzialmente si aggiungono gli over 12, ma c'è un dato da non trascurare che riguarda le diverse percentuali delle province e delle città. La percentuale dei non vaccinati non risponde pienamente con quanti si dichiarano no-vax. I dati infatti per alcuni comuni sono difformi, come ad esempio nel Cilento, dove le persone risultano residenti ma di fatto vivono in altre parti d'Italia. Questo per dire che in questo momento la copertura è molto ampia, anche se non bisogna dimenticare che se non si osservano comportamenti corretti c'è sempre il rischio di contrarre il virus. A dirlo questa mattina ai nostri microfoni il responsabile Covid dell'asile di Salerno, Arcangelo Sagge Setozzi, che ha colto l'occasione per elencare una serie di appuntamenti utili a raggiungere altre persone ed altri comuni della provincia di Salerno con un'attenzione particolare alle donne in gravidanza. Noi anche sulla provincia di Salerno abbiamo le percentuali che se le rapportiamo alla popolazione vaccinabile siamo ormai oltre l'80% delle persone vaccinate. Nella città di Salerno siamo oltre l'83% delle persone vaccinate tra la popolazione vaccinabile. Questo significa che veramente ci manca un piccolo sforzo per completare il tutto. Il dato che diamo l'80%, l'81% o il 71% sulla popolazione generale ovviamente è un dato medio, perché poi abbiamo situazioni difformi all'interno della provincia, noi abbiamo un'eccezione particolare, abbiamo il comune con il minor numero di vaccinati e abbiamo il comune con il maggior numero di vaccinati della regione Campania, in particolare Torraca e Bello Sguardo, che vanno dal 50, qualcosa per cento all'82,7%. Noi oltre che mettere i camper davanti alla scuola per recuperare, per dare una mano ai ragazzi, per permettere ai ragazzi di essere tutti vaccinati, iniziamo anche a mandarli nei comuni più marginali, nei comuni dove ci sono più difficoltà di questo genere, nelle frazioni, nelle grandi città dove c'è qualche difficoltà. Bisogna stressare, spingere a fondo la prossimità al vaccino e questo è l'ultimo sforzo che dobbiamo fare, in tutto questo probabilmente dovremo fare uno sforzo anche con i medici di base per riuscire a raccogliere quella fetta di popolazione che non ha avuto ancora l'opportunità di vaccinarsi. Una di queste iniziative fatte in questo senso per esempio è quella che facciamo domani a Vallo della Lucania, dove andiamo a vaccinare una popolazione specifica mirata alle donne incinte, anche per far capire che la vaccinazione si può fare in tutti i contesti, con le garanzie e con l'accortezza necessaria. A Battipaglia, a Scafate abbiamo messo un centro specifico dedicato per fare le vaccinazioni difficili, per le problematiche di tipo allergenico. Domani a Vallo facciamo una giornata dedicata alla vaccinazione delle donne incinte, delle donne in allattamento, la fa anche i ruggi in un'altra giornata, per cui noi in tutte le occasioni in cui è possibile avvicinare le persone, avvicinare e risolvere i dubbi delle persone, cerchiamo di esserci. Dottore, che tipo di inverno si attende? C'è un dato da non trascurare, i primi vaccini li abbiamo avuti per il personale sanitario a fine dicembre e per le altre persone la vaccinazione è scattata dopo, ma diciamo che molte persone ad oggi potrebbero non avere più quella difesa immunitaria tale e utile per superare un periodo che è quello dell'inverno, dove gli ambienti chiusi potrebbero favorire il virus? Noi dobbiamo renderci conto che dobbiamo convivere con questo virus per un po' di tempo ancora, come abbiamo fatto, come stiamo facendo da anni con il virus dell'influenza, dobbiamo abituarci a questa ritmicità delle vaccinazioni. Lo sentiamo, si sente dire, probabilmente a partire dai più fragili, già da fine settembre, dall'inizio di ottobre si inizierà a fare un richiamo di vaccinazione, probabilmente si faranno i richiami con lo stesso cadenzario che è stato fatto precedentemente, per cui i più anziani, i più esposti, il mondo sanitario, i protettori, si ripartirà in questo modo. Molto probabilmente si ripartirà in parallelo anche con la vaccinazione antinfluenzale. Diciamo che la copertura deve diventare sistema, fin quanto abbiamo questo problema. Siamo attrezzati per poterlo fare. L'esperienza di questi mesi ci dice che siamo in grado di avere una squadra, una macchina, un sistema capace di fare vaccinazioni anche in numero numeroso. Abbiamo fatto più di un milione e quattrocentomila dosi di inoculazione nella provincia di Salerno. Considerate, è una vecchia riflessione, se questo vaccino era monodose noi avremmo già vaccinato quasi una volta e mezza la nostra popolazione. Saremo in grado di affrontarlo serenamente e tranquillamente, non ci preoccupiamo.